Hello everybody! Ciao a tutti e a tutti, io sono Sofia e questo nuovo vlog Oggi sono qui per fare un vlog di questi quattro giorni Che passerò a San Vitolo Capo E niente, siccome facciamo questa vacanzina breve E tra l'altro domani, il 23 settembre, sarà pure il mio compleanno Ho deciso di riprendervi Riprendere Ciao mamma E portarvi con me E niente, vi mando un grosso bacio E spero che il video vi piaccia Ok, siamo arrivati a San Vito, come ho detto E ora siamo venuti un po' in spiaggia Anche se sono le 5 e mezza, vabbè, un po' costeremo Non c'è caldo, c'è vento, però vabbè Ok, sono le 9 Mi vedete un po' buio, sono uscita appena da casa, tipo qua abbiamo casa E ora andiamo, che stasera ci sarà Francesco Gabbani in concerto E quindi andiamo, andiamo a vederlo appunto Allora in pratica qui al Cuscus Fest c'era lo stand di Ricola E facciano queste bevande sia calde che fredde E io ne ho provate una calda, è tipo... Il paradiso costa la metà, dice il venditore di felicità La fuga dall'inferno è finalmente un viaggio Le tue vacanze in un pacchetto omaggio Un po' di rupe sotto il monumento Sta in campo di concentramento E sulle spiagge arroventate E scelte ogni speranza non c'entrate E state E' un neolitico Nella tua gabbia due per tre Mettiti comodo Intellettuali nei caffè Intellettologi Socio onorale Gruppo dei servisti anonimi L'intelletto E' un po' di rupe sotto il mio Utili e inutili E' un cittadino E' un cittadino Lezioni di divina E' un cittadino E' un cittadino E' un cittadino E' un cittadino E' l'una E abbiamo mangiato una pizza Appunto siamo da... L'angolo della pizza E niente abbiamo mangiato la pizza Niente è il mio compianno Perché è l'una appunto E quindi è il 23 settembre E' il mio compianno Buongiorno Io già sono in cammino E niente praticamente sono le 9.48 la zanzara stanotte come regalo di compleanno mi ammorzio qua quindi perfetto e niente stiamo andando di nuovo a mare un poco stamattina ok sono le 2.23 io mi sono fatta doccia, mi sono fatta shampoo mi sono cambiata, ok quindi stiamo uscendo da casa e andiamo di nuovo al couscous buon appetito vado aggiornamenti e niente siamo stati a mare questa mattina come avete visto poi abbiamo mangiato sempre couscous e poi siamo andati in giro alla ricerca di una pasticceria per una torta e ora sono le 5.40 e mangeremo la torta e abbiamo mangiato la torta e ora ti parla era un semi freddo alla marena e quello che è rimasto è questo questo è quello che è rimasto è la torta ok sono le 8.53 ci siamo di nuovo cambiati e ora sono più elegante perché comunque è il mio compleanno tra l'altro questo è un regalo di mio fratello molto molto vlog nel vlog vlog nel vlog vlog no vlog allora sono le 19.34 abbiamo prenotato in un ristorante e ora siamo venuti qui a mare a fare delle foto molto 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 belle siamo stati qui al ristorante e ora dobbiamo scegliere quello da mangiare io credo di prendere qualcosa di pesce perché ho voglia di pesce io credo di prendere qualcosa di pesce buongiorno oggi è domenica e sono a lecce sono ai 12 mi sono sviata ora ho fatto colazione e ora tutti gli altri sono andati a mare io non ne ho voglia di andare a mare quindi penso stare qui a leggere e poi non lo so tra l'altro ieri mi sono abbronzata tantissima appunto tutta la faccia che mi bring up a fuoco poi ho anche vedete il segno del costume quindi mi sono abbronzata tantissima e non ne ho voglia e quindi starò qui ok sono le due e mezza alla fine sono uscita ok alla fine sono uscita per pranzare mi sono preso un calzone fritto mentre mia madre e mio padre si hanno preso il pane conzato di qua gelato cocco e bacio ok sono le 17 e 30 probabilmente siamo venuti un po' al mare però ho ancora la maglietta perché c'è vento e quindi quindi la tengo ok allora sono le 18 e 38 stiamo di non riuscendo e mi sono di nuovo cambiata ho messo questa maglietta che mi sono regalato per il compagno allora niente andiamo a fare una passeggiata andiamo a prendere tipo una bicicletta a 4 ok sono le 9 e mezza io mi sono fatta questa traccina ok vabbè non si vede perché non c'è luce ora si vedrà magicamente ok l'ho fatta così ok oggi è lunedì e niente mi sono svegliata alle 10 ora sono le 11 e 49 e dovremmo lasciare la casa alle 12 quindi rientriamo e niente volevo fare la fine di questo vlog quindi spero che questo vlog vi sia piaciuto e niente vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao